Sbarrita la strada dei play-off, c'è da ritrovare quella del successo in casa per l'Unione Calcio Biceglie. Appuntamento lontano 5 giornate e rinviato ad altra occasione, visto che quella offerta dalla sfida contro la nuova Andria, ultima in classifica, ha rischiato di trasformarsi nella terza sconfitta di fila per la squadra di Ferrante. Le buone intenzioni non mancano ai padroni di casa, nonostante buona parte del primo tempo scivoli via senza grossi sussulti. Così, alla prima vera occasione, l'Unione Calcio passa in vantaggio grazie alla prontezza di Di Pierro su cross di Dascoli. Rotto l'equilibrio, i bicegliesi provano a chiudere la questione già nel primo tempo, senza trovare la strada del raddoppio, prima con Di Pierro, gli si oppone Crisantemo che devia in calcio d'angolo e cinque minuti dopo sul cross di Dascoli che l'Andriese Pasculli salva sulla linea di porta. Non è in giornata Corrado Ferrante che la sua personale occasione per il raddoppio la sciupa, prima non centrando il bersaglio grosso su colpo di testa e a dieci minuti dal riposo senza l'esito sperato. Dovendo pagare Dazio per uno sciupio di almeno cinque occasioni nitide, l'Unione Calcio si deve inchinare all'invenzione balistica di Lops che consente alla nuova Andria di chiudere in pareggio la prima frazione. Risultato che i padroni di casa vorrebbero riportare dalla loro parte ad inizio ripresa, ma la conclusione di Ferrante dopo cinque minuti si spegne sul fondo. Lops per parte andriese continua ad essere il più pericoloso, anche se sul piazzato cercato al quarto d'ora Antonino deve svolgere solo ordinaria amministrazione. Più impegnativo è l'intervento del nuovo entrato Conte tra i pali andriesi sulla conclusione di Mattia Pasculli, l'attaccante bicegliese, mentre il solito Lops ancora su calcio da fermo trova il raddoppio e la sua personale doppietta. A raddrizzare il pomeriggio con l'Unione Calcio che si spinge in avanti è Mattia Pasculli dal dischetto del rigore assegnato per fallo su Ferrante. Il pareggio non sembra voler accontentare nessuna delle due squadre, tanto che Lomonte ci prova ancora su punizione per la nuova Andria, mentre Tridente manca l'appuntamento con il pallone del possibile 3-2, che non si concretizza nemmeno in pieno recupero quando Bufi finisce a terra in aria di rigore, ma sul proseguimento dell'azione Ferrante si fa anticipare da un difensore andriese in ripiegamento disperato.